Siamo allo sport, parliamo del Giro d'Italia, è davvero sfortunato il nostro Giulio Ciccone, abbiamo anche le immagini, purtroppo è stato coinvolto in una maxi caduta a circa 54 km dall'arrivo, si è rialzato, davvero stoico Giulio Ciccone che però poi non è riuscito a tenere il passo pur avendo ripreso il gruppo Maglia Rosa, ma la tappa, la diciassettesima tappa del Giro d'Italia è stata vinta da Daniel Martin, partenza da Canazzei, arrivo a Sega di Ala dopo 193 km e 3400 m di dislivello il corridore irlandese della Israel Startup Nation, domato in solitaria alla dura salita finale, 11,2 km al 9,8% di impendenza media con punte del 17%, precedendo di 12 secondi il portoghese Joao Almeida e di 29 secondi il britannico Simon Yates, Bernal, il colombiano, ha conservato la Maglia Rosa pur mostrando le prime crepe, il colombiano è andato infatti in crisi e negli ultimi tre chilometri dell'ascesa finale è arrivato al traguardo con Damiano Caruso a meno di un minuto da Yates, altra giornata storta per Venepol, caduto nella discesa successiva al passo di San Valentino, il belga è ripartito dopo essere stato medicato Ombraccio è appunto a 54 km dall'arrivo, nell'incidente sono stati coinvolti anche Nibali e Ciccone, Ciccone è riuscito a rientrare sul gruppo Maglia Rosa per poi però staccarsi all'inizio della salita, molto ma molto impegnativa salita finale, domani in programma la diciottesima tappa, la Rovereto Stradella di 231 km, ultima chiamata per i velocisti, ancora in corsa, in classifica generale, ricordiamo Bernal, ancora naturalmente Maglia Rosa, Caruso a 2 minuti e 21, Yates a 3 e 23, mentre perde purtroppo posizioni lo sfortunatissimo Giulio Ciccone, scivolato al decimo posto in classifica generale a 11 minuti dal leader della corsa, davvero molto sfortunato Giulio Ciccone che però è stato più forte delle avversità, grande temperamento, grande carattere a parte del ciclista teatino.